La missione umanitaria voluta dalla sedicenne Carla Bartoli di Favara per portare in salvo mamme e bambini in fuga dalla guerra dall'Ucraina è partita. Il bus dell'autolinea Patti, carico di genere alimentari, prodotti per l'igiene personale e coperte, è in viaggio e percorrerà 2813 chilometri per giungere a Lublino. In questo momento si trova in Austria. A bordo del mezzo la mamma di Carla, Florinda Saieva. Tanta roba è rimasta in magazzino, spiega la donna. L'abbiamo conservata e verrà utilizzata per provvedere ai profughi durante la loro permanenza a Favara. A Lublino ci aspetta una comunità di donne e bambini e qualche anziana. Dopo aver scaricato i viveri destinati, dice la donna, a chi non ha più niente, porteremo queste persone a Favara dove le famiglie sono già pronte ad accoglierle. E tra queste famiglie ci sono anche gruppi di nisseni, in particolare di riesi, che arriveranno proprio nella provincia dove verranno ospitate. Circa 50 i profughi che verranno portati in salvo. Florinda, insieme ai suoi volontari, ha caricato il pullman, ha spiegato Andrea Bartoli, il patron della Farm Cultural Park, nonché papà di Carla. Noi resteremo qui per organizzare la logistica dell'accoglienza ed ospitare nel fine settimana, salvo inconvenienti, tutta la comitiva. Siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi i nostri amici dell'Ucraina. Percorreremo tutta Italia fino al Brennero, attraverseremo l'Austria, la Repubblica Ceca e la Polonia, ha spiegato Giovanni Patti dell'autolinea. E giungeremo a Lublino dove ci attendono per accogliere gli aiuti umanitari e caricare circa 50 persone da portare in salvo. La collega Concetta Rizzo, che si trova in questo momento insieme al gruppo, alla comitiva di volontari che si sta recando in Polonia, ha sentito per noi la mamma di Carla che ha organizzato questa spedizione. Florinda Saieva. Siamo in Austria, diretti verso la Polonia. Fra i profughi ucraini che ci attendono ci sono anche delle persone che devono spostarsi verso il Nisseno. Qual è la storia? La storia è quella di Boris, la sua famiglia vive con la moglie a Riesi e ci ha chiesto di portare in Italia la suocera con la figlia e i due nipotini. Quindi siamo stati in stretto contatto, già fortunatamente sono a Lublino e ci stanno attendendo. Con tanta preoccupazione da parte del marito e della figlia che ha dovuto lasciare andare la moglie e i due bambini e lui è dovuto rimanere in Ucraina. Quante persone verranno portate in salvo complessivamente? Complessivamente 50 persone, sono questi posti che abbiamo disponibili sul pullman.